Capitolo 13 In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso al mare, e molte turbe si raunarono attorno a Lui, tal che Egli, montato in una barca, vi sedette, e tutta la moltitudine stava sulla riva. Ed Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo, Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero, e la mangiarono. E un'altra cadde nei luoghi rocciosi, ove non avea molta terra, e subito spuntò, perché non avea terreno profondo. Ma levatosi il sole fu riarsa, e perché non avea radice, si seccò. E un'altra cadde sulle spine, e le spine crebbero, e l'affogarono. E un'altra cadde sulla buona terra, e portò frutto, dando qual cento, qual sessanta, qual trenta per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli accostati si gli dissero, perché parli loro in parabole? Ed Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono e non intendono. E s'adempia in loro la profezia di Isaia che dice, udrete co vostri orecchi e non intenderete, guarderete co vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi, ed hanno chiuso gli occhi che talor non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendono col cuore, e non si convertano, e Dio non li guarisca. Ma abbeati gli occhi vostri perché veggano, e i vostri orecchi perché odono. Poiché, in verità, io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono di vedere le cose che voi vedete e non le videro, e di udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque, ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza, però non ha radice in sé, ma è di corta durata e quando venga tribolazione o persecuzione a cagion della parola è subito scandalizzato. E quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola, poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la parola e così riesce infruttuosa. Ma quei che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il cento, l'altro il sessanta, l'altro il trenta. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo, Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzagne in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzagne. E i servitori del padron di casa vennero a dirgli, Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro, un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero, vuoi tu che l'andiamo a cogliere? Ma egli rispose, No, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai miei titori, Cogliete prima le zizzanie e legateli in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo, Il regno dei cieli è simile a un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è bene il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola, Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre staglia di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose, disse Gesù in parabole alle turbe, e senza parabola non diceva loro nulla. Affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta, Apriò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa, e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo, Spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Ed egli rispondendo disse loro, Colui che semina la buona semenza è il figliuol dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figliuoli del regno, le zizzanie sono i figliuoli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'era presente, e i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figliuol dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. E li getteranno nella fornace del fuoco, qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran prezzo, se ne è andato, ha venduto tutto quel che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è anche simile ad una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e posti sia a sedere raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non val nulla. Così avverrà la fine dell'era presente. Verranno gli angeli, toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornaccia del fuoco. Ili sarà il pianto e lo stridor de' denti. Avete intese tutte queste cose? E sì, gli risposero, sì. Allora disse loro, per questo, ogni scriba ammaestrato pel regno dei cieli è simile ad un padron di casa il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Or quando Gesù ebbe finite queste parabole, partì di là, e recatosi nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, tal che stupivano e dicevano, onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figliuol del falegname? Sua madre non si chiama ella Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Donde dunque vengono a lui tutte queste cose? E si scandalizzavano di lui, ma Gesù disse loro, un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua, e non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità.